Settimana di lavoro particolare, grazie all'amministrazione comunale siamo riusciti ad allenarci alla palestra comunale dello stadio. Era un campo senza parchei, quindi non abbiamo potuto fare cose molto tecnico-tattiche, ma l'unico obiettivo di questa settimana era quello di cercare di mantenere la condizione fisica e ci siamo riusciti. È stata una settimana tranquilla, serena, dove tutti si sono allenati in buone condizioni, in buon modo. Sono felice di questo, il club era molto sereno e quest'altra cosa importante che mi premeva nuotare in questa settimana dopo l'ultima partita giocata in campionato. Abbiamo dato questo weekend di riposo ai ragazzi, che sono tornati qualcuno a casa, qualcuno è rimasto qui. È del lunedì, ritorneremo a lavorare a Palazzetto e prepareremo bene il prossimo match che è in casa di Pozzuoli sabato prossimo.